Salve a tutti, in questo video faremo qualcosa di leggermente diverso rispetto ai nostri video precedenti perché inizieremo ad operare con i file di testo, quindi vedremo come scrivere e come creare un file di testo apriamo il nostro Eclipse, andiamo subito su file, new java project e scegliamo un nome per il nostro progetto io lo chiamo pino, facciamo clic su next, poi su src e poi su finish come al solito benissimo, il progetto è stato creato ora andiamo a creare una nuova classe che chiamiamo file di testo così ci capiamo, controlliamo di avere il public static void main attivato e facciamo clic su finish ecco qua la nostra bellissima classe allora vediamo un po' cosa ci serve per fare l'input e output sui file intanto dobbiamo importarci una nuova libreria che è la java.io.file con la F maiuscola e anche, ok no, così, java.io.file questa qui è appunto la libreria che contiene tutte le istruzioni che ci fanno fare la creazione oppure che ci fanno vedere se un file esiste oppure no quindi adesso andiamo al nostro main cancelliamo un po' di questi commenti che stanno qua e vediamo cos'altro dobbiamo creare allora vi ricordate come facevamo noi per lo scanner? scrivevamo scanner, poi il nome del nostro scanner per ne so, k uguale new scanner system.in giusto? punto e virgola benissimo la dichiarazione per poter leggere diciamo i nostri file di testo si fa allo stesso identico modo solo che invece di usare la parolina scanner si usa la parolina file quindi file poi il nome del nostro file io lo chiamo f è uguale a new file e qua tra parentesi gli mettiamo il percorso del nostro file siccome è un file che andremo a creare nella stessa cartella in cui c'è il nostro file di testo .java non c'è bisogno di mettergli il percorso ma gli scriviamo soltanto il nome per esempio lo chiamo prova.txt quindi fatemi cancellare questo scanner che non servirà giusto per farvi capire quindi cosa abbiamo fatto fino ad ora? abbiamo preso queste istruzioni qui e le abbiamo inserite nel nostro programma queste istruzioni tra l'altro ci permettono di creare questa specie di variabile che è appunto di tipo file che noi chiamiamo f e che si fa riferimento a questo file qui che dobbiamo prima vedere se esiste e se non esiste lo dobbiamo creare noi se invece esiste possiamo andarci semplicemente a scrivere sopra comunque vediamo prima se esiste quindi facciamo un bel if e in questo if ci mettiamo il nome del nostro file quindi f.exists quindi se il nostro file esiste quindi se f che è il nome del nostro file prova.txt esiste allora devo fare delle istruzioni devo fare queste cose quindi andiamo un po' che ne so diciamo che possiamo fare una system.out.println il file esiste altrimenti stessa println quindi system.out.println il file non esiste ok salvo un attimo e vado ad aprirmi adesso la cartella dove c'è il nostro il nostro progetto file di testo.java vediamo se da qua me lo apre no oppure se gli dico vediamo così no brutta cosa vabbè me la vado a cercare io vanno documenti java programmi e questo qua l'abbiamo chiamato pino no quindi questa qui dovrebbe essere la cartella del nostro del nostro pino documenti programmi pino apposta in src quindi qua ecco infatti il file di testo benissimo quindi ora se io vado ad eseguire il programma lui mi dovrebbe dire qua nella console che il file non c'è perché infatti non c'è non ho capito cosa vuole se gli dico ah ok perfetto va bene il file non esiste e infatti il file non c'è ora vediamo invece come crearcelo quindi se il file non esiste che dobbiamo fare? dobbiamo scrivercelo anzi innanzitutto dobbiamo crearlo quindi per crearlo semplicemente si aggiunge un altro if quindi il nostro non è più un else ma è un else if e in questo if ci scriviamo f quindi sempre il nostro file punto create new file eccolo qua ce l'abbiamo ora però java praticamente rompe un po' le scatole su questo create new file e su altre istruzioni che andremo a vedere perché vuole che inseriamo per forza una di queste due variabili che ci dice nel in questi quick fixes vedete nella finestra che si è aperta a me quando io ci metto appunto il mouse su questo create new file mi appare questa questa finestrella dove mi dice che ci sono due diciamo aggiustamenti da fare subito da poter fare subito il primo è questo add throws declaration il secondo è surround with try catch allora che succede con il primo il nostro programma mette al suo interno delle istruzioni che praticamente evitano alcuni errori che possono succedere spesso con i file di test o con cose simili questa seconda questo secondo fix invece circonda queste istruzioni qui con altre istruzioni un po' più diciamo complicate per il momento che però non andiamo a vedere quindi per il momento facciamo clic su add throws declaration e che succede sotto public class file di testo appare questo throws io exception questo io sta per input output exception sta per eccezioni quindi se succede una un'eccezione quindi se c'è un errore sull'input o sull'output mi fermo o comunque non 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 mi autodistruggo non faccio niente di male e potete anche notare che ha automaticamente importato questa java.io .io exception che è appunto la libreria che permette di al nostro programma di funzionare anche se succede qualche cosa di strano benissimo quindi una volta cliccato quello vedete che non dà più errore quindi dicevo se il file esiste benissimo se non esiste con questo if lui lo crea automaticamente però lo crea vuoto infatti se adesso avvio il programma e qua gli dico creato che vuol dire che l'ha creato io adesso avvio il programma mi dice creato vado a controllare nella cartella dove sta questa era la nostra cartella nel nostro progetto vedete che trovo il file prova adesso che però è vuoto quindi se io lo vado ad aprire non ci trovo assolutamente nulla infatti vedete prova.txt è vuoto e allora come faccio a scriverci dentro è semplice bisogna usare un altro gruppo di istruzioni e soprattutto dobbiamo importarci un'altra libreria questa altra libreria è la java .io .print writer semplice questo print writer praticamente è un'altra variabile particolare che noi adesso andremo a creare che permette di scrivere qualche cosa sui nostri file di test quindi quando noi creiamo il nostro nuovo file ci dichiariamo questa bella variabile che è di tipo print writer e la chiamiamo scrivi scrivi e sarà un nuovo print writer che dovrà scrivere indovinate un po' su quale file sulla nostra f punto e virgola andiamo a capo e decidiamo che cosa deve scrivere per scrivere qualcosa con il nostro print writer ci basta scrivere scrivi appunto .print line come sempre quindi è come se facessimo una system.out .print o .println solo che la fa sul nostro file e qui gli diciamo che cosa vogliamo scrivere ciao a tutti punto e virgola ultima cosa una volta che abbiamo finito di scrivere scriviamo appunto scrivi punto close e chiudiamo le nostre parentesi punto e virgola quindi salviamo io ora cancello il file che sta qui la nostra prova la cancello e la vado a ricreare adesso con il nostro file con il nostro programma quindi lui mi dice che l'ha creato andiamo a vedere se l'ha creato in effetti l'ha creato già si vede che c'è scritto sopra perché la dimensione è di un k quindi io lo apro mi dice che è stato sì ricaricato e infatti vedete mi dice ciao a tutti quindi così possiamo scrivere qualcosa all'interno del nostro file ma se noi volessimo scriverla quando il nostro file invece già esiste come facciamo è semplice se il nostro file esiste andiamo a rimettere questo printer writer print writer scrivi il nuovo print writer f quindi lo ricopiamo dopodiché dobbiamo andare a modificare una cosa qui dove abbiamo dichiarato il nostro file f infatti se vogliamo aggiungere del test ad un file che è già esistente il nostro file f così com'è non va bene va modificato leggermente come mai questo perché abbiamo bisogno di istruzioni aggiuntive che troviamo nella import cioè nella java punto io punto file output stream ok cosa file output stream ci permette di scegliere quando andiamo a dichiarare il nostro file se vogliamo permettere appunto al nostro programma o ai nostri programmi di accedervi e quindi di modificarlo aggiungendo delle righe di testo come si fa a modificare questa cosa è semplice basta andare accanto al nome del nostro file aggiungere un virgola true dobbiamo però cambiare il nostro il tipo del nostro file perché infatti non sarà più file ma sarà file output stream quindi questo qui è un file output output stream la p minuscola f ovviamente sarà un nuovo file output stream e così è tutto tranquillo quindi l'unico problema è che adesso non abbiamo più il nostro file originale che dovremmo appunto conservarci invece quindi andiamo a ridichiararlo io ho fatto una cavolata perché dovevo crearmene uno nuovo vabbè facciamo così quindi file questo qua lo chiamiamo f il file output stream lo chiamiamo fos che è meglio quindi file f uguale a new file sempre prova punto txt ok questo fos lo dobbiamo utilizzare se il nostro file f già esiste quindi questo fos lo mettiamo qua il nostro print writer sarà di fos benissimo e il nostro print writer dovrà quindi il nostro scrivi non dovrà fare una println ma dovrà fare un append quindi dovrà appendere appunto il suo testo che per esempio potrebbe essere ora vi saluto al nostro file dopodichè scrivi punto close salviamo il nostro file e vediamo ultima cosa prima di partire che dobbiamo fare è mettere questo file output stream non fuori ma dentro l'if perché altrimenti credo proprio che non ci scriva un bel niente quindi proviamo ad avviare il programma però prima voglio cancellare il file quindi questo qui era il file vediamolo completamente quindi ora non c'è quindi io lo avvio la prima volta e lui che mi deve fare siccome non esiste me lo deve creare e mi deve dire e mi deve scrivere ciao a tutti e qua mi dice che l'ha creato vediamo infatti dice che l'ha creato l'ha creato lo apro e c'è scritto ciao a tutti ora lo chiudo e vado a vedere che succede se scusate se vado a riavviare il programma quindi questa volta mi dice che il file esiste io lo sto aprendo e infatti mi ha aggiunto ora vi saluto e mi ha lasciato il ciao a tutti quindi con un po' di fatica vabbè nulla con un po' di fatica abbiamo visto come funziona l'input nei nostri file ci vogliono un bel po' di librerie aggiuntive quindi con ci vuole la print writer la file output stream e la file ricordatevi la differenza tra file f e la file output stream una vi permette di aggiungere le righe e l'altra no e direi che per oggi è tutto ci vediamo nel prossimo video a presto grazie a tutti